Doppio debutto sul palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo, quello di Eleonora Bagnato, palermitana e ormai celeberre Mettual dell'Opera de Paris, che per la prima volta veste i panni di questa Carmen completamente rivisitata, e quello della coreografia di Amedeo Amodio, che per la prima volta arriva in Sicilia dopo aver girato fra i principali teatri del mondo. Una versione, quella di Amodio, che in qualche modo va oltre le coreografie tradizionali, andando quasi a ritroso verso il finale, drammaticamente ineluttabile, la morte di Carmen, morte che nell'opera di Bizet accompagna in realtà sotto forma di presagio tutto l'intreccio. Suggestiva così è anche la progressione rovesciata della scenografia, con il palco che via via si va spogliando di elementi sino al vuoto assoluto della scena finale. E in questo vuoto è esaltata proprio lei, Carmen, protagonista assoluta e piena nella sua solitudine, quella di ogni eroe tragico che si rispetti. Carmen consapevole del suo destino, Carmen che tiene il filo degli eventi, fra trasgressione e seduzione fino alla morte. Una Carmen, certo molto diversa da quella con cui Eleonora Abbagnato si è già cimentata nella classica coreografia di Roland Petit, che segnò anche l'ingresso della ballerina palermitana all'Opera. Al fianco della Abbagnato, un altro etual dell'Opera Parigina, Nicolà Lerisci nel ruolo di Don Cosè, sul podio dell'Orchestra del Teatro Massimo debute il russo Mikhail Agrest, bacchetta emergente del Teatro Marinsky di San Pietroburgo. Le scene e i costumi sono firmati da Luisa Spinatelli, le luci da Bruno Ciulli.